0-1 corta nessuna tecnica 1-2 limite per caffio 2-3 3-4 3-5 corta staccata 3-6 bassa nessuna tecnica scambio di gambe 3-7 palla addosso sbracciata schiena indietro 3-8 gamba sbagliata incrocio di gambe aperta vicino a rete 4-9 5-10 5-11 tecnica sbagliata spinta con la gamba incrocio 6-12 7-13 8-14 9-15 10-16 al limite per vicinanza centro campo 11-17 prendi la palla più in basso aumenta la percentuale di decisione 11-18 corta per nato indietro di schiena 12-19 perfezione assoluta 13-20 14-21 15-22 perfezione assoluta 16-23 17-24 al limite per apertura di palla 18-25 al limite per centro campo 19-26 al limite per rete 19-27 schiene indietro sbracciata 20-28 21-29 20-23 age 22-29 20-32 28-32 29-37 21 29 31 30 31